Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Albano Carrisi ha vissuto un periodo buio di cui non tutti sono a conoscenza Un periodo che lo ha distrutto. Le parole di Mara Venier svelano ogni cosa Albano Carrisi è senza alcun dubbio una delle voci più belle che il panorama italiano musicale possiede. Tant'è che durante il corso della sua carriera è riuscito a viaggiare in tutto il mondo, portando la tradizione del bel canto italiano in tutti i paesi Per questo motivo il leone di Cellino San Marco può contare sull'affetto e il support di fan in tutto il mondo, ma non tutti sono a conoscenza che nel recente periodo il cantante ha vissuto un periodo buio che l'ha distrutto. La confessione è arrivata qualche tempo fa nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica Inn, dove è stata proprio la conduttrice a rivelare quello che il cantante le aveva rivelato durante una chiacchierata privata Il periodo buio di Albano Carrisi ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori in quanto non avrebbero mai immaginato che il loro beniamino avesse provato un dolore simile in questo periodo così delicato. Mara Venier consola Albano Carrisi, il periodo buio di cui nessuno era a conoscenza Albano Carrisi, dopo la rivelazione che avrebbe voluto nascondere per sempre, si è raccontato qualche tempo fa a Domenica Inn, dove la zia più amata d'Italia ha parlato per la prima volta del periodo buio che il cantante ha vissuto e di cui non aveva mai parlato prima di questo momento. Ricordo di quando mi hai telefonato, e mi hai detto che ti mancava troppo cantare ha spiegato la conduttrice al suo, fedele pubblico E gli hai avuto un down importante, ha poi proseguito, e il suo ospite ha confermato ogni cosa, parlando per la prima volta di questo delicato argomento di cui non tutti erano a conoscenza. Stare lontano da quella carica di adrenalina continua, che noi proviamo è stata dura ha ammesso con estrema, sincerità, l'ex marito di Romina Power. Ho preparato però in quel periodo delle perle che a breve usciranno ha poi ammesso, rivelando che a breve sarà possibile ascoltare nuovo materiale da lui creato proprio in questo momento di dolore Albano Carrisi a Maravenier, che di recente ha parlato della malattia che le ha cambiato la vita, ha rivelato un inedito retroscena di cui non aveva mai voluto parlare prima di quel momento Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video